Ciao! Ciao! Eccoci qua ragazzi, oggi andremo a Lignano al campeggio Pino Mare e ve lo faremo vedere Questo è l'ingresso del campeggio, qua c'è la reception Qua possono entrare gli animali, per tanto Da ricordarsi per chi ne ha Adesso andiamo in piscina con l'acqua salata Questa è il parchetto per le biciclette Ecco la piscina Il bar Questo è il palco per le feste Piscina con acqua calda Attenzione il pavimento è scivoloso Ecco la zona fitness Cosa possiamo provare? Lo step Un po' legnoso il meccanismo E qua andiamo ad affrontare il ponte La palma La fontanella La cosa bella di questo campeggio è che le sdraio, le trovi sempre e sono comodissime Prendiamo un'occhiata alle regole generali del posto Vedete che sdraio Un petuffino E questo è il bar Adesso andiamo sotto il ponte Mi sa che adesso andremo a perdere un altro spiz Diciamo che il bar ci piace Il mojito 6 euro Non è male Guardate che bel salottino Qua c'è il perco giochi per i bambini e per i figli Siamo un po' contro luce ma si dovrebbe vedere E' un po' contro luce Guardate che spettacolo Le zone per i rifiuti Facciamo esplorazioni insieme a voi Ecco qua c'è scritto piscina Una piscina Tutto di là Qua è una figata guardate questo è un ristorante di lusso 21 21 23 ecco alla vecchia finanza la zona sportiva e qui c'è il campo a tennis alla ricerca del bagno perduto adesso andremo a vedere un bagno del campeggio allora i bagni sono tutti sopraelevati non so perché quindi si bisogna fare le scale questo è per i cani lasciatoio i bagni una doccia c'è questo rubinetto qua che è perfetto l'armadietto bello chiuso il lavapiedi la lavatrice lavavestiti a gettone qui c'è il lavapiatti con la finestra che dà sui giardini bellissimi questi bagni lì c'è l'asciugamani elettrico questa è la chicca del campeggio quello è un wifi ti danno la password all'ingresso e tu usi internet dopo lo proviamo però perché non l'abbiamo ancora provato facciamo il speed test il market e voilà la colazione di campioni ciambella l'home e caffè è comodo ecco il ristorante interno c'è la pizza le 6 del casino di venezia all in abbiamo optato per la mensa e c'è il service io prendo un'orata e un brantino ecco qua quello che passa il convento oggi florata alla griglia con patate il salmone al forno con piselli e carote e anguria buon appetito tutto molto buono angurietta per dopo avviciniamoci all'area wellness guardate che figata bellissima la signorina ci ha lasciato gentilmente entrare la capannina una bella cucina la fontanella tutto in fiore questo è l'ingresso dell'area wellness allora siamo giunti al termine di questa avventura al campeggio pino mare di legnano riviera se questo video vi è stato utile lasciateci un commentino qui sotto un like iscrivetevi al canale esatto qua sotto no così sotto noi adesso ci avviamo verso casa consigliateci altri campeggi da poter visitare e video recensire così avrete delle recensioni dal nostro punto di vista mandi mandi ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.